Buonasera a tutti, è un piacere per me scambiare con voi queste idee e mi dispiace molto invece non essere presente con voi in quel luogo meraviglioso. Il tema di oggi, cui parlerete, la trasformazione digitale, è un tema di estrema importanza per le imprese italiane, è un tema che sta sempre più entrando nella vita quotidiana degli imprenditori. Da questo punto di vista credo sia importante ringraziare fondi dirigenti per l'attenzione che sta portando su questo tema fondamentale per il futuro del nostro Paese. Solo due parole relative a cosa stiamo facendo al Politecnico nel territorio piemontese, stiamo lavorando a due livelli, nella costruzione di Compital Center, primo livello è quello di costruire dei centri di ricerca interdipartimentari su nuove tecnologie che prevedono l'interazione di discipline che storicamente hanno sempre avuto percorsi paralleli, stiamo lavorando sull'addit manufacturing, sulla fotonica, sull'agricoltura di precisione e così via cercando di mischiare esperienze molto diverse e dall'altro punto di vista stiamo cercando un luogo unico dove portare tutte queste esperienze di ricerca per metterle insieme con le esigenze delle imprese e trasformarle in qualcosa che possa essere sperimentato e utilizzato con grande rapidità mettendo in evidenza un fatto che sta diventando sempre più importante che è quello dell'importanza del fattore locale, del luogo unico dove fare questa sperimentazione di tecnologie. Paralmente a questo stiamo facendo un lavoro insieme a tutti gli attori del territorio piemontese sempre sotto l'auspicio di fondi dirigenti, la ricerca dello studio di un modello replicabile di interazione fra tutti i soggetti del territorio che parte dalle fasi di awareness, di comprensione della digitalizzazione che non è sempre così ovvia e non è uguale per tutti i settori attraverso varie fasi di maturazione delle idee fino alla fase di applicazione che poi dovrebbe trovare nel Competence Center il punto finale e tutto questo con una forte interazione con quello che addice di Innovation Hub. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro.